Faccio parte di questa associazione Vittime del Dovere, per lo più formata da vedova e da orfene, che si impegnano in ogni campo. Insieme abbiamo formato, si sono stretti a me, abbiamo formato questa squadra per educare attraverso la memoria, che è importantissimo non dimenticare, e soprattutto dando esempi per quanto riguarda l'amore per lo sport, cos'è lo sport e cosa ci deve dare. E quindi sarebbe bello che tutti ci unissimo a questo e in questo. Noi stiamo promuovendo anche questa giornata dedicata ai caduti e proprio ricordandoli, in memoria di mio marito e degli altri caduti, in un campo di calcio. Nell'occasione io seguo il Catania in trasferta a Udine. La violenza fa solo male e non porta niente di costruttivo. Purtroppo il dolore a noi ci ha insegnato di non fermarci, di andare avanti e non arrenderci mai. Oggi siamo qui per questo.